Buongiorno a tutti, questa è in assoluto la prima lezione delle matricole dell'anno accademico 2013-2014 e per questo e non per semplice affetto al mio dipartimento che ho voluto essere presente qui stamattina per darvi il più caloroso e affettuoso benvenuto all'Università di Catania e augurarvi il buon lavoro per il corso di studi che iniziate oggi ad affrontare. Un auguro di buon lavoro che si rivolge in primo luogo a voi naturalmente ma a tutti i colleghi oggi ci entusiasmo, certo probabilmente ci sono tanti pensieri e tante preoccupazioni che affollano la vostra mente nell'affrontare questo percorso. Naturalmente non posso dare risposte certe a tutte queste vostre domande, posso dire certo che siamo impegnati. Se l'Università serve, se l'istruzione serve, ecco su questo non lasciatevi prendere e rubare il futuro da chi dice e pensa che l'istruzione non serve, che l'Università non serve. L'istruzione serve e come? Questo oggi non è un paese per i giovani perché viene sottovalutato e viene ridimensionato il peso dell'istruzione, perché l'istruzione è per i giovani. L'istruzione è i giovani. Se questo paese oggi ha una possibilità, se questa terra nostra siciliana ha oggi una possibilità di uscire dal momento anche difficile che tutti stiamo attraversando, se c'è una via di uscita è nella conoscenza. Certamente non è più pensabile orientare lo sviluppo alla moltiplicazione dei consumi ma bisogna orientare lo sviluppo di un'economia verso la qualità della vita. Non abbiamo bisogno di più cemento, abbiamo bisogno di case che sappiano resistere ai terremoti, abbiamo bisogno di case che non consumino troppa energia, abbiamo bisogno di un'economia che sappia produrre servizi per le persone, abbiamo bisogno di rimodellare il nostro sviluppo e lo possiamo fare solamente se abbiamo competenze, se abbiamo una capacità di pensare in modo diverso rispetto al passato. Allora è come se l'istruzione non serve. Oggi sembra che gli strumenti della conoscenza siano a portata di tutti, a portata di un click. Sì è vero, si è moltiplicata l'informazione che tutti abbiamo a disposizione, noi tutti abbiamo il telefonino, il tablet, il computer per poter accedere a un oceano o a universi di informazione. Ma badate che questo non è sufficiente, cioè non è la quantità che rende voi in grado di essere competenti. Occorre saper leggere quelle informazioni. Ci vuole la lente per leggere, la lente la fornisce la scuola, la lente la fornisce l'università. L'università prima che un luogo di trasmissione del sapere è un luogo dove si formano le coscienze. Questa è l'università oggi che vogliamo costruire sempre di più e sempre meglio. L'università, come dice Papa Francesco, è un luogo in cui si formano le coscienze critiche e soprattutto si educano i giovani anche ai rapporti con le altre persone, ai rapporti solidaristici. Ce la faremo? Certo, ce la farete, come se non ce la farete? Ma, diciamo, ce la farete sapendo che per riuscire all'università, come in ogni altra attività umana, occorre curiosità, occorre passione, occorre impegno. Certo, pensate ai grandi successi anche recenti. Il ragazzo che inventa il Facebook è adesso uno degli uomini probabilmente più ricchi del mondo. È chiaro che il successo non si misura solamente dalla quantità di denaro, dalla ricchezza che si riesce a costruire con la propria intelligenza e la propria competenza. Ma è chiaro che quel successo è possibile non soltanto perché si ha creatività, ma perché uno riesce a trasformare la creatività in qualcosa di concreto. Per trasformarlo in qualcosa di concreto abbiamo bisogno dell'istruzione, abbiamo bisogno di impegnarci. Certo, tutto nasce dalla curiosità, il fatto di dire ma questa cosa potrebbe farsi in un altro modo, questa cosa potrebbe avere successo, come d'altra parte la curiosità che nasce al primo uomo quando comincia a strofinare la pietra contro un'altra pietra e ne viene fuori fuoco. Allora partiamo dalla curiosità, dalla passione che dobbiamo mettere nelle cose che facciamo, che siano lo studio, che siano altre attività e soprattutto dall'impegno. Certo, questo è un periodo in cui dovete ancor più che prima abituarvi al sacrificio. Un sacrificio che certamente non richiede l'annullamento della nostra vita, ma richiede davvero un impegno continuo e costante. Allora vorrei chiudere queste mie brevi parole con un'espressione che viene da un intellettuale del XX secolo, Antonio Gramsci, che in un altro contesto disse una cosa bella che credo oggi possa essere adatto a quello che stiamo facendo. Lui diceva organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, istruitevi, studiate perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. I migliori auguri di buon lavoro. Grazie.